... Continua il nostro viaggio nell'area dei 15 comuni che rientrano nelle iniziative del programma speciale senisese. Anche a Castronuovo diversi privati hanno utilizzato gli incentivi previsti dai bandi per la rivitalizzazione dei centri storici. In particolare qui siamo nel bar del signor Francesco Mele che ha sfruttato i bandi per rimettere completamente a nuovo il suo locale. Ho presentato tutti i documenti a sviluppo Basilicata e attento che mi finanziano il contributo. Che tipo di interventi? Qui il bar è stato ristrutturato dalla A alla Z? Sì, è stato ristrutturato tutto, completamente tutto. Arredamente, strutture murale, tutto. Dalla A alla Z, tutto. Lei ci diceva prima che l'idea di ristrutturare il bar già c'era, però grazie forse a questo finanziamento ha deciso di farlo prima e totalmente. Sì, visto che c'era il finanziamento, sono stato in quella cifra che mi hanno dato il finanziamento. Comunque lo facevo lo stesso, però magari un po' di meno, in base alle possibilità. Magari facevo solo quelle che erano necessarie. Per il momento è soddisfatto? Sì, fino adesso sì. Sperando che sarò soddisfatto dopo. Fondi dedicati alla rivitalizzazione dei centri storici anche per costruire uffici, come nel caso della De Biasi Costruzioni, che a Castronuovo di Sant'Andrea ha utilizzato i fondi del programma per realizzare la sua sede legale. Orchè in progress dei lavori. Siamo qui nella futura sede della De Biasi Costruzioni. Qui con noi il geometra Giovanni Marino, che lavora appunto per la De Biasi Costruzioni. Questa sede qui nel centro storico di Castronuovo di Sant'Andrea è stata finanziata in parte anche con i fondi del programma speciale senisese dedicati ai centri storici. Che avventura è stata per quanto riguarda proprio l'utilizzo dei fondi? Beh, è stata davvero un'avventura. Perché siamo partiti, diciamo, diciamo, siamo partiti bene, insomma. Sembrava che la cosa andasse avanti velocemente, però lì dove abbiamo iniziato i lavori, poi è successo che ci siamo dovuti bloccare perché è venuto meno da parte dell'ente l'anticipo che avevamo richiesto, insomma. Ecco, quindi ci siamo dovuti bloccare. Quindi, magari in futuro, se è possibile dare un consiglio a chi eroga i fondi, essere più celeri anche nell'anticipo? Certo, essere più celeri negli anticipi, ma credo che sia anche importante per aiutare lì, veramente, chi ha, diciamo, intenzione di fare un investimento, di aiutarlo, diciamo, trovare un'altra formula sul finanziamento che danno. Cioè, non andare a collaudo, ma cercare di dare la stata di avanzamento di soldi, perché se no non ci si fa, insomma, ecco. Che tipo di interventi avete fatto in questa sede? Qui, diciamo che, prevalentemente, abbiamo fatto degli interventi di finitura, perché le opere strutturali non le abbiamo toccate, i salai erano già esistenti e quindi noi abbiamo previsto l'adattamento degli impianti tecnologici e opere di finitura, ecco. Possiamo dire che, in un certo senso, ovviamente, l'investimento era già previsto da parte dell'impresa, però possiamo dire che un po' anche l'intervento dei finanziamenti del programma speciale ha accelerato alcune decisioni? Sì, certo, questo sicuramente. L'intervento era previsto e era urgente, perché specialmente esternamente il fabbricato era in condizioni, insomma, molto, molto precarie. Quindi questo ci ha aiutato ad accelerare l'investimento fatto, insomma. In fin dei conti, positivo o negativo? Certo, sicuramente. Se migliorano il discorso pagamenti, sicuramente la cosa è positiva. Certo, sicuramente.